Oroscopo del giorno, sabato 23 gennaio 2021 Ariete Amore Questa dovrebbe essere una giornata abbastanza positiva, tanto che una persona speciale potrebbe sorprendervi. Se siete innamorati, il partner potrebbe fare un passo importante per la vostra storia d'amore. Stop alle relazioni che non funzionano. Lavoro Occhi aperti, perché potrebbe esserci un'occasione interessante da non lasciarsi sfuggire. Toro Amore Già da ieri potrebbe esserci stato un miglioramento per il lato sentimentale. Oggi potrete continuare questa tendenza cercando di dare il giusto spazio alle emozioni e alla cura del rapporto amoroso con il partner. Lavoro Forse non sarete al top con le energie e in questo sabato potrete un po' risentirne. Attenzione Gemelli Amore Questa giornata di gennaio sarà interessante soprattutto perché ha il cuore libero e cerca nuove emozioni. Oggi potreste fare una nuova conoscenza che potrebbe anche rivelarsi importante. Tutto stabile per chi fa coppia fissa Lavoro Il periodo non è affatto male per le attività professionali, tanto che le novità non dovrebbero tardare ad arrivare Cancro Amore Se qualcosa nel rapporto con il partner non va, potreste provare a parlarne per trovare un punto d'incontro. Decisamente meglio i single che con il giusto impegno potrebbero conoscere una persona interessante. Bell'ottimismo in amore Lavoro Sarà un sabato di recupero dove per qualcuno potrebbero arrivare pure buone nuove. Ci vorrà impegno e pazienza Leone Amore Se avete iniziato un nuovo rapporto da poco tempo, forse dovreste essere più prudenti. Sarà meglio andare con calma, pazienza con i sentimenti, anche se comunque voi sentirete una grande forza. Dovrete capire qualcosa in più Lavoro Le idee probabilmente non saranno così chiare, ma sarete ambiziosi e tanto determinati Vergine Amore Ultimamente state facendo un po' di fatica con le emozioni. Dovreste essere più spontanei Con una persona speciale, se ci tenete davvero, sarà il momento perfetto per aprire il cuore Siate un po' più leggeri. Basta dubbi Lavoro Questo sabato sarà un giorno di sfide ed occasioni lavorative. Siate fiduciosi Bilancia Amore In questa giornata sarete un po' riflessivi sulla relazione d'amore con il partner. Se non siete impegnati sentimentalmente, ma avete conosciuto qualcuno che vi interessa, potrete lasciare libere le emozioni. Spazio alle cose belle Lavoro Gran recupero a livello professionale. Dopo tanto impegno, per molti, arriveranno finalmente i primi risultati Scorpione Amore Giornata che potrebbe essere un po' complicata per alcune coppie. È probabile che nutrirete qualche dubbio o una preoccupazione nei confronti del partner. Sarà possibile andare avanti nonostante tutto, soprattutto in futuro Lavoro Qualche sfida potrebbe non mancare come le nuove occasioni. Valutare molto bene prima di agire sarà importante Sagittario Amore Niente male i sentimenti. Questi giorni sono abbastanza belli e positivi per le emozioni. Qualcuno potrà recuperare un certo equilibrio con il partner Chi invece è libero potrà aprirsi ad un nuovo incontro, una nuova conoscenza Lavoro Penserete un po' di più a progetti e sogni nel cassetto Impegno ed energie aiuteranno nella realizzazione Capricorno Amore Ci avviamo verso la fine del mese e questo sabato di gennaio sarà un giorno interessante, soprattutto per chi è single In questa giornata potrebbe arrivare una nuova conoscenza speciale Chissà che non si riveli qualcosa di importante Lavoro Occhio perché qualcuno potrebbe pensare di cambiare strada per inseguire i suoi obiettivi professionali Acquario Amore In questa giornata potrete mettere in chiaro tutte le incomprensioni che ci sono state con il partner Finalmente potrete trovare una soluzione per andare avanti Bene pure chi ha il cuore libero Nuova conoscenza proprio per oggi Lavoro Per i nuovi lavori dovreste giocare un po' di più con il vostro intuito Pesci Amore Per questa giornata non ci saranno grosse novità e cambiamenti per le coppie e gli innamorati Probabilmente sarà un sabato tranquillo e sereno Difficilmente ci saranno problemi con il partner Lavoro Attenzione a valutare e ragionare bene prima di fare qualcosa Di prendere delle decisioni importanti Per questa giornata non ci saranno grosse novità e non ci saranno grosse novità e non ci saranno Mi piace Registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti Per questa giornata non ci saranno Peppa Grazie a tutti Di prendere delle decisioni europee Per questa giornata non ci saranno Non ci saranno grosse novità e non ci saranno Il passo per questo giorno Per questa giornata non ci saranno Per questa giornata non ci saranno